Un po' per pasta Questo è anche un po' vecchio, questa villa Loro sono andati nel 2009, siamo nel 2022 Manca un po' da una vita nuova, pensando che saremmo più in realtà Appunto, come esserlo permessi Tu conoscevi la Maripaola quando sono andata in casa? Sì E avevi un cittadino di vacca? Sì Credo 5 febbraio 2009 Sì No Ah no No, no, no I giudici sono usciti a dicembre del 2009 E' quella la parte in cui c'è la città E' la parte in cui c'è la città E' la parte in cui c'è la città E' la città Ma questa è la parte in cui c'è la città La Cicchi La Cicchi La Cicchi La Cicchi La Cicchi La parte più moderna E' la parte moderna A me piace questa Sono pazzesche queste casette La Cicchi Ma in realtà a me ci fanno il fascino dell'Undinese Però queste sono proprio casette popolari Ci vedrai mai tutte uguali Tutte uguali Come fai a riconoscere? Infatti Guarda queste finestre non sono piccole La Cicchi Però questa è anche una fabbrica No No? Soprattutto non c'è una fabbrica Questo appartamento Oh dai Cicchi Tante persone Però tanti c'hanno invece di essere grandi Guarda quante Quanti volte c'hanno di essere grandi Non c'è Seguro che ci si incinta Invece Beh Ci siamo già passati pure da qua comunque Ci stiamo andando in chiedo per Dio Scusa Stiamo prendendo la stessa linea di prima al contrario Si Ci siamo arrivati 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 No Ci siamo arrivati Ci siamo arrivati Ci siamo arrivati Scusa No Ma questo è un stato assai Io riconosco i palazzi Ma sono tutti uguali? No No Riconosciuto C'è uno che ha tutte le pende Ma sai cosa ci abbiamo fatto? Lì c'è consigliante di prendere la Paster Quello che faceva meno fermante Che è una sfamatura più lenta Nuova da Blinwich No No Scusa Guarda sulla cartina Da Gatwick A Blinwich Sai la stessa linea del treno Ehm Non c'ho più No, non ho assoluto fatto niente. Stiamo già facendo una scelta. In che senso? Andiamo qua. All'indice qua. Siamo già nella strada. Secondo me poi potremmo tornare a due anni. In realtà non abbiamo fatto niente. Abbiamo andato il corso giù per le scale. Quando c'era la fermata in cui dove stavamo andando. Secondo me dopo che siamo andati a Greenwich, tornando indietro, ci fermiamo. Quello che volevamo vedere è il Tower Bridge. Il London Bridge. Tra l'altro di sera deve essere abbastanza affascinante. Forse dovrei chiamare l'albergo? Ma non c'è il tempo di cerchino. Beh, diciamo il primo giorno è dalle 30. Insomma, non penso che se non ti vedano... C'era scritto il tempo di arrivo. C'era proprio il proprio tipo di scriverlo. E io non l'ho scritto. Ma è già pagato? Sì. È pagato tutto. C'era anche prenotazione senza possibilità di... C'era la prenotazione senza possibilità di cancellazione. Sì. Dalle ore 14. Ah, è vero! Lo riconosco perchè c'è una bici. Sì. Sì! La parte della città è là! Guarda! Aspetta il mondo. Noi andiamo con la città. Sì. Ecco, ma andiamo là a Londra. Sì. Cioè andiamo là dove c'è tutto qui. Cosa si fa a cambiare lingue? Dove? Guarda. 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 Grazie.